Giuseppe Alpa, presidente dell'associazione Luigi Tenco, questa ventitresima edizione dell'Isola in Collina che ricade nel cinquantesimo anniversario della morte del cantautore. Cosa succede? Succede che siamo riusciti ad arrivare alla ventitresima edizione, abbiamo reiterato la cosa, visto l'anno scorso il successo sia di pubblico che di qualità della musica, siamo ripartiti a febbraio e abbiamo costruito questa edizione, naturalmente più corposa, non dal punto di vista qualitativo perché già l'anno scorso il livello era molto alto, ma diciamo come notorietà dei cantanti. Quindi le date saranno il 21 e il 22 di luglio, sono due serate completamente diverse l'una dall'altra perché sono proprio due pubblici, due generi musicali completamente diversi. Parliamo sempre di musica d'autore, su Gino Paoli è inutile che stiamo a fare commenti e a parlare di che cosa ha fatto Gino Paoli, ma i Marlene e Kunze il venerdì che fanno un genere totalmente diverso perché sono un gruppo di piemontese, sono un gruppo che da qualche anno già volevamo contattare ma non siamo mai riusciti ad averli a Ricaldone. Quest'anno ce l'abbiamo fatta e quindi ci sarà un venerdì per dei giovani quarantenni, mentre un sabato per un pubblico amante del jazz perché Gino Paoli farà con un trio jazz, quindi arrangiamenti jazz e udite udite l'accompagnamento dell'orchestra classica di Alessandria. Sempre per rimanere legati al territorio abbiamo pregato Paoli e lui si è prestato di inserire nel suo concerto l'orchestra classica di Alessandria. Mentre il venerdì, e quindi saltiamo come una pallina da flipper, ad aprire la serata dei Marlene e Kunze saranno un gruppo di acqui, lo straniero, un gruppo emergente del territorio, perché come tutti gli anni noi cerchiamo di legare a un gruppo importante di traini comunque una band emergente per riuscire a dargli un po' di visibilità, per quel che possiamo naturalmente. Quindi 21 e 22 luglio a Ricaldone, dove possiamo trovare informazioni per venire e per acquistare i biglietti? Informazioni sul sito dell'Associazione Cultura Lugitenco, i biglietti si troveranno comodamente all'ingresso dell'area Concerti che sarà il piazzale della Cantina Tre Secoli, sempre a Ricaldone. All'interno dell'area ci sarà un'area a ristoro, quindi si potrà comunque mangiare, ci sarà la farinata, ci saranno dei piatti caldi e naturalmente il vino della Cantina Tre Secoli. Quindi vi aspettiamo a Ricaldone venerdì e sabato.